Sono arrivato in Comer Industries nel 2014, dopo la laurea in Ingegneria Meccanica. Ho scoperto un ambiente dinamico, giovane e stimolante, che mi ha permesso di crescere molto. Ho sviluppato in breve tempo nuove competenze tecniche e gestionali, migliorando anche le qualità personali. In questo periodo mi sto occupando dell'attuazione di Industri 4.0 in azienda. Industri 4.0 rappresenta per me un'opportunità di crescita professionale. È di fatto la quarta rivoluzione industriale che porterà a un cambiamento epocale per le aziende italiane. Il mio è quindi un ruolo di grande responsabilità, poiché introdurre queste nuove tecnologie in azienda ci permetterà di continuare a competere a livello globale. Sono moltissime le nuove tecnologie che abbiamo introdotto in azienda. Penso ai nostri impianti di verniciatura, considerati da riferimento nel settore, per il loro livello di automazione e digitalizzazione. Tra le più innovative inserirei anche le isole robotizzate di asseguimento dei centri di lavoro, le stampanti 3D e gli AGV. Proprio ora stiamo avviando un impianto di trattamento termico tecnologicamente avanzato. Quest'anno puntiamo a introdurre tre tecnologie chiave in ottica Industri 4.0. I collaborative robot in area assemblaggio, il MESS e gli occhiali 3D per la realtà aumentata. Grazie per la visione!